Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Morgan Show durante il concerto del 26 agosto al Parco archeologico di Selinunte. L'artista si è esibito a chiusura del Festival della Bellezza, dove in programma c'era una lezione concerto intitolata Battiato, segnali di vita e di arte. A un certo punto Marco Castoldi ha perso le staffe e ha iniziato a rivolgere improperi alla folla. Tutto è iniziato quando Morgan si è infastidito per un gruppo di spettatori che lo avrebbero disturbato e rivolgendosi a loro ha iniziato la sua invettiva monologo, vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel 1946. Ma la situazione è degenerata con l'ex leader dei Blue Vertigo che dal palco ha iniziato a lanciare invettive contro i singoli spettatori. No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro. Il duro sfogo di Morgan avete avuto troppo, perle ai porci si chiamano queste. Se non se ne vanno coi dementi io non canto. State zitti, basta, avete rotto il cazzo. Ho dei sentimenti, coglioni. Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez. Tramite il suo gruppo Whatsapp, pieno di giornalisti, operatori culturali e direttori d'orchestra, Morgan ha chiesto scusa. Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all'essere umano che si deve rispetto. E quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente. E seppur nel modo sbagliato è stata provocata dall'essermi sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata e in quel luogo meraviglioso e commovente. E l'avermi chiesto una cover di Battiato dopo. Una delle mie più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso.